carissimi amici e amiche bentornati a questa nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di gloria polo sono stata le porte degli inferi e dell'inferno continuiamo il viaggio guidati dalla testimonianza di questa bell'anima colombiana e che abbiamo lasciato la volta scorsa appunto in compagnia dei suoi genitori ecco mentre raccontava la sorte della mamma e poi la salvezza un po mezzo miracolosa ecco del del papa dipendente però soprattutto dal grande sacrificio accettato e offerto dalla mamma andiamo subito avanti perché la testimonianza molto lunga e riprendo la lettura commentata come sempre ovviamente superato il pantano in cui era mio padre continuai la mia discesa verso una zona pianeggiante che mi parve costituire il fondo di questo abisso giunta in prossimità del suolo si aprì però una voragine che al suo imbocco era simile a un vortice impressionante venni violentemente risucchiata a testa e giù mi parve di essere ingerita dalla bocca di un animale famelico quel vortice era spaventosamente vivo come lo è ogni cosa in quell'abisso gridavo come una pazza in preda al terrore nella convinzione che il mio ingresso in quella voragine non avrebbe posto fine alla mia discesa verso le tenebre ma sarebbe potuto essere l'anticamera di qualcosa di molto più spaventoso scorgevo infatti in fondo alla voragine un'ulteriore voragine viva verso la quale mi stavo inesorabilmente dirigendo da lì non sarei mai più ritornata lo stato di morte all'amore della mia anima stato nel quale mi trovavo dall'età di 13 anni cioè da quando omisi di accostarmi alla confessione sacramentale nonostante commettessi dei peccati mortali sarebbe divenuto definitivo e avrei dovuto lasciare ogni speranza proprio mentre pensavo che l'inevitabile si sarebbe compiuta compiuto fui affidata a cui afferrata per i piedi da san michel arcangelo non lo vidi ma sapevo che era lui che frenò la mia caduta fino a fermarmi nella parte alta di questa voragine mi tenne così come stavo cadendo a testa in giù primo piccolo veloce punto di sosta allora semplicemente per evidenziare un fatto fondamentale questa anima non si confessava dall'età di 13 anni nonostante commettesse una barca di peccati mortali che ovviamente quando andava in chiesa facesse la comunione questa piaga che è veramente una piaga sociale dilagante è fuoriera di tanti di quei mali di tanti di quel pericolo profondo di dannazione ecco che mi permetto di sottolinearlo in maniera particolare nostro signor gesù christo presente nell'eucharistia attende con ansia i suoi amati figli perché si nutrono di lui ma guai e cento volte guai a chi si azzarda a farlo avendo anche solo un peccato mortale sulla coscienza senza premettere la confessione sacramentare la piaga delle comunioni sacrile che ormai sono lustri che flaggerano la chiesa non c'è niente che dia tanto potere al demonio quanto una comunione sacrile che sacrilegio caristi si sono purtroppo all'ordine del giorno e sono una fonte di ingrassamento spaventoso dei diavoli e di accrescimento sbalorditivo del loro potere molti si lamentano di tante cose che si vedono anche nella nostra casa che è la chiesa e che è la colonna il sostegno della verità come scrive san paolo mirabilmente a timotio molti si lamentano anche di questo ecco più che lamentarsi di questo noi dovremmo fare i lamenti di altro genere perché dovremmo fare tanti di quei mie mea culpa non andare a lamentarci della situazione ma piangere i peccati che l'hanno provocata il diavolo amici miei cari purtroppo nella sua cattiveria intelligente non può impedire che nella chiesa continuano ad essere celebrate le messe e si facciano la comunione ma lui sa bene che se nella chiesa permangono le messe celebrate come dio comanda e tutti fanno la comunione in grazia lui è morto non può fare niente non può fare perché non può perché nostro signore lo ha vinto e perché nostro signore è dio solo che la nostra forza è quella che cosa si è inventato a calma questo non la posso eliminare ma gliela posso attossicare questo questo lo posso fare quindi cominciamo a fare riduzione di messe accorciamenti di messe volgarizzazione di messe e poi cominciamo a diffondere la comunione in mano anzi prima di fare fondi alla comunione in mano cominciamo a dire che tutto sommato perché devi confessare fa i discorsi del tipo a se non fa la comunione come se ti invitano a cena e tu rifiuti l'invito che io non ho parole per per biasimare chi 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 va dicendo in giro queste queste cretinate a volte dei poveracci di laici senza formazione pian e partono ok funerali va a dire o mi raccomando venite a fare la comunione mica mi veramente non fare la comunione che bisogna fare la preghiera per il defunto è cato che benedetto sedicesimo a suo tempo di venerata memoria scrisse in una bella lettera credo che fosse proprio la deus carita sest cosa che io faccio sempre lo faccio fare perché ho preparato delle dita scarie che in queste circostanze lungi dall'andare a a fare come dire gli inviti alla comunione bisogna piuttosto ricordare presenti che si può accostare alla comunione chi appartiene alla come dire alla categoria dei cristiani cattolici praticanti o quantomeno si è confessato prima di andare a messa altrimenti non bisogna fare la comunione io sono personalmente idea mia opinabilissima persuasa che non ci saremmo mai ritrovati nelle condizioni ecclesiane in cui stiamo adesso senza il dilagare della piaga delle comunioni sacrile e senza la diffusione il widespread proprio larghissima diffusione di quella che per me è una piaga che è la comunione in mano io di questo ne sono assolutamente convinto e anche perdonatemi delle messe che adesso con le preghiere o caristiche nuove e brevi cioè a me mi dicono ma sapete cosa sapeste quanta gente quella messa durata 17 minuti 18 minuti ma è chiaro quella messa è messa nel senso che è una messa valida non ve non ve non ve non ve non ve non ve ne vedete mai questa questione qui ma è una messa stream in sita cioè la validità dei sacramenti io dico sempre alle persone lasciatela perdere d'accordo perché i sacramenti sono validi ma il problema è che non basta che un sacramento sia valido un sacramento deve essere messo in condizione di poter dispiegare tutti i suoi frutti di santificazione questo si chiama la fruttuosità di un sacramento e questo dipende da tante circostanze ulteriori quelle non toccano l'ex opera operato l'ex opera operato basta semplicemente che la cosa sia fatta così come deve essere fatta quindi con le parole giuste con l'intenzione giusta e questa c'è ma l'impoverimento l'indebolimento c'è altrettanto c'è c'è se non ci sono quelle condizioni che permettono al sacramento la sua massima la massima rispiegazione possibile della sua potenza ed efficacia ecco tanto per dire due cose e questo vale in grado sommo per l'eucaristia gloria polo stava piombandosi all'inferno la presa san michele per il rotto della cuffia si dice a roma altrimenti lì andava a finire e una volta entrata ricordate il vate lasciate ogni speranza voi che entrate non c'è ritorno da quella fossa di morte bene la luce residua del mio spirito infastidì gli spiriti immondi somiglianti a larve e sanguisughe che si trovavano in questo luogo di tenebra che io percepivo come il caos il disordine contrario all'ordine voluto da dio bellissime il caos detto fra me e voi sarà una coincidenza no ma caos è anagramma di caso parola tanto amata da sedicenti eppure intelligenti scienziati che continuano a dire che tante cose si sono originate dal caso è fortuna che sono persone intelligenti perché se non lo fossero forse bisognerebbe spiegare che caso è l'anagramma di caos ma niente di ciò che sta intorno a noi sta in caos è tutto perfettamente ordinato ed è l'ordine dio è ordine il diavolo è disordine questo ricordiamolo anche questo vale anche per per tutto ciò che ci circonda compresa la nostra persona compresa i nostri luoghi gli ambienti di lavoro le macchine una persona amica di dio non tollera il disordine deve liberarsi dal disordine ho detto tante volte io ho visto monasteri di clausura di strettissima osservanza dove la povertà non è che è un gioco è un gioco lì la povertà è povertà non c'è niente non c'è come la casa di Nazareth di Maria Santissima ma tu entri lì dentro e senti la presenza di dio perché c'è un tale ordine un tale decoro una tale pulizia pur in una evidentissima povertà che è proprio il riflesso proprio l'immagine del cielo io se vedo una persona disordinata anche nelle cose esteriori se salgo in macchina di qualcuno vedo tutto buttato per terra tutte le cose le monete sparse le penne le buste i pezzi di carta sarò fissato ci avrò i miei pallini ma niente il caos e il disordine non vengono da dio e se ci stiamo dentro quelle sono come dire firme del nemico di dio quindi dobbiamo sentirne proprio vedete questi sono sangui suve sentirne la repulsione non ci dobbiamo saper stare non ci dobbiamo fare pace con il disordine nessuna delle sue manifestazioni questi spiriti immondi mi si gettarono addosso avvolgendomi completamente per spegnere questo mio barlume di luce barlume di luce perché ovviamente non era ancora morta e non era ancora stata risucchiata nel vortice ero atterrita le creature spirituali immonde che si trovavano ora sia dentro sia fuori di me erano tenebra viva sentite odio vivente bruciante e divorante impressionante questa descrizione tenebra viva ma soprattutto odio vivente il peccatore deve sapere che è la persona più idiota che esiste in tutto l'universo perché si va a consegnare nelle mani e questo i diavoli l'hanno detto in alcuni esorcismi sghignazzando dice che tu siete stupidi venite da me venite peccando da uno che vi odia infinitamente e abbandonate colui che si è fatto ammazzare per voi lui dice così che vi amo di un amore immenso e che vi aspetta in continuazione il diavolo da un lato gode di questo qui perché ma dall'altro proprio si fa beffe della nostra idiozia beffe e tutti i torti non c'era odio vivente e significa l'odio cioè la percezione che tu stai a contatto con chi ti vuole male ti vuole fare del male vuole il tuo male e non ha limiti per questo non ha pietà i demoni sono fatti così non c'è pietà non c'è compassione basta un peccato mortale per consegnarsi nelle proprie ammine non serve essere posseduti per consegnarsi nelle mani dei diavoli i posseduti molte volte sono delle vittime poverine non ci hanno colpe per quello che è successo ma i peccatori sì urlai inorridita e provai un immenso dolore esso non è assolutamente paragonabile al dolore di bruciatura è di tutt'altra natura credo che Dio mi abbia dato la grazia di sentire il dolore da bruciatura proprio per potervi dire che è diverso in questa tenebra fittissima non riuscì più a percepire l'amore di Dio anche questa percezione non è assolutamente paragonabile però a quella che sperimentai verso la fine della mia vita terrena quando divenni atea perché in terra l'amore di Dio si effonde su Dio continuamente anche quando lo neghiamo per questo il dolore che si sperimenta in terra quando si vive nella convinzione che non ci sia alcun Dio amorevole risulta tollerabile in questa voragine ritrovai la mia infantile fede cattolica e scomparve ogni ombra di concezioni atee e materialistiche mi ricordai delle anime del purgatorio viste tra le anime che incontrerai nella mia prima esperienza mistica anime che distinzi da quelle celesti per una differenza nel grado di purezza dei loro sentimenti e che mi apparivano da piccola gridai anime del purgatorio vi prego portatemi via da qui appena terminai la supplica udite gli strazianti battiti di denti provenienti dalle bocche di un numero sterminato di anime piangenti e gementi in quella terra di odio battiti di denti no? perché il nostro signore mica parla vanvera la sarà pianto estridore di denti battiti di denti e chi sono questi qua? vediamo vidi che erano dei giovani ma proprio tanto i giovani protendevano le loro braccia imploranti in cerca di aiuto e gridavano di dolore mi resi conto che erano anime suicidatesi in un momento di disperazione in questa tenebra carica di odio attendevano che passasse il tempo che avevano rifiutato di vivere per poi essere sottoposti al giudizio particolare completo il loro tormento maggiore era causato dalla vista del doloroso senso di colpa dei propri genitori e delle proprie persone care senso di colpa dovuto a non aver saputo arginare o addirittura all'aver accentuato le loro tendenze suicidari questo tipo di dolore non è utile a quelle anime purgante poiché esse hanno bisogno della buona volontà dei loro cari buona volontà posta nell'iniziare o continuare a percorrere con più forza un cammino di vera conversione cammino composto di sacrifici di misericordia dare da mangiare agli affamati da bere agli assedati vestire agli inuti alloggiare i prigionieri visitare gli infermi visitare i carcerati consigliare tubiosi insegnare agli ignoranti ammoliti ai peccatori consolare gli affitti perdonare le offese sopportare pazientemente le persone moleste pregare a Dio previe per i morti e se perdere i morti le anime purganti hanno bisogno che i loro cari riuniscano i loro sacrifici di misericordia all'eccelso sacrificio caristico della Santa Messa in essa infatti si ripresenta sacramentalmente l'offerta che Gesù fece di se stesso al Padre per la salvezza del mondo e noi possiamo chiedere che i meriti di Cristo siano applicati all'anima purgante che ormai è perso la possibilità personale di meritare di uscire di lì se amiamo dunque questi cari ragazzi defunti non dobbiamo perderci inutilemente nel dolore ma dobbiamo compiere le opere di misericordia e far celebrare loro messe in loro soffragio allora momento di disperazione suicidio allora la prima cosa che succede questi non vanno subito al giudizio particolare ci dice Gloria Po questa è una cosa che lei ha vissuto ha capito la chiesa evidentemente non ha mai la chiesa non dice mai non dirà mai cose di questo genere quindi sono offerte alla nostra intelligenza e al nostro discernimento la motivazione è assai convincente però io lo dico cioè allora se uno si suicida fa una cosa gravissima ecco perché è così grave il diritto di aborto che è di una gravità inaudita vedete è un diritto per cui sappia chi ha fatto questa cosa qui qualunque penitenza abbia ricevuto il signore si aspetta che si faccia penitenza a vita come era un tempo per l'aborto per l'adulterio eccetera a vita è terminato la vita senza pensare che nemmeno si è fatta abbastanza ancora il signore della vita è dio quindi vabbè se tu hai fatto questa cosa in un momento di disperazione vedete come il giudizio aspetta soltanto al signore non è che un suicida noi possiamo affermare con certezza che è dannato il suicidio è un atto gravissimo e se fatto senza circostanze attenuanti gravi ti porta all'inferno ma le condizioni soggettive del suicida noi non possiamo conoscerle ok però una cosa è certa niente giudizio particolare anche se non stanno all'inferno prima che tu passi in questa condizione di disemidannazione d'accordo per tutti gli anni che resti tu ti sei suicidato a 20 anni avresti avuto una vita di 80 anni bene buon divertimento per questi 60 anni che ti fai l'anticamera del giudizio particolare vedendo le persone che stanno soffrendo per te che piangono che sono pentite e tu che stai lì a pentirti a capisci bene il danno che hai fatto eccetera eccetera con tutto quanto il resto gli annesi e connessi è la prima cosa la seconda cosa che certi funerali strapparsi le vesti e piangere in maniera disordinata come se la persona fosse scomparsa nel nulla sono atteggiamenti che si vedono oggi in tante chiese sopparro quindi le vedo ci sono certi funerali che si vedono delle scene veramente brutte disperazioni strappamenti di vesti allora il dolore è una cosa sana e che il signore comprende Gesù ha pianto sulla morte di Lazzaro la Madonna ha pianto sulla morte di Gesù per carità quindi ma la disperazione no però il pianto isterico no perché questo è proprio di chi la fede non ce l'ha se si vuole fare del bene a un defunto io questo lo dico sempre messe di suffragio unite alle opere di misericordia corporale e spirituale qualche persona saggia poche che scrivono o che magari chi muore aveva dato il compito di scrivere non fiori ma opere di bene dice molto bene io quando potevo qui mi hanno sconsigliato di farlo perché questa è una piccola un piccolo centro ci sono altre consuetudini e potrebbe essere non compreso questo gesto però per tanti anni quando celebravo le sequie facevo fare come dire una una questua cosa che da parte mie le sequie si fanno solo la domenica non perché per invitare i fedeli attraverso un'offerta a compiere un'opera di misericordia per il defunto così dice durante questo funerale oltre a questa prima messa gli offrite anche specialmente poi chi non è in condizione magari anche di passare la comunione perché non sta in grazia ma un'opera di misericordia comunque tu gliela puoi offrire il soffragio di quest'anima quando muore una persona l'unica cosa di cui dobbiamo occuparci è mandarla in paradiso il più presto possibile sperando che sia salva fate celebrare il più messe possibile fate queste cose non c'è nient'altro da fare anche se muore un genitore una persona cara non c'è nient'altro da fare basta e poi c'è da fare un bel fiat perché la morte arriva per tutti capite si sente a volte è morto mio padre è morta mia madre la vita è fina morono tutti i padri e le madri per carità ripeto un po' di dolore va bene ci mancherebbe se muore tua madre non è come andare a fare la festa in maschera ma entro certi limiti ami tua madre tua madre non è morta tua madre ha finito la vita terrena ai tuoi fedeli la vita non è tolta ma trasformata dice il prefazio della messa dei defunti uguale a quello che c'era un tempo che grazie a Dio sotto questo punto di vista quindi non serve strapparsi le vesti che questo dà dolore al defunto non dà la gioia e non dà manco sollievo a te fallo contento al defunto aiutalo come la chiesa insegna di aiutarlo e non fare altre cose io mi trovo la testa in giù dunque tra queste anime atrocemente sofferenti orrendamente quindi che stanno alla bocca dell'inferno stanno orrenda atrocemente sofferenti orrendamente riempita ricoperta da creature spirituali orripilanti temendo che eri dovuto patire ingiustamente questo tormento gridai con quanto fiato avevo in gola vi prego fatemi uscire di qui vi state sbagliando io non ho mai rubato non ho mai ucciso non ho mai danneggiato nessuno che dicono tutti tutti dicono io sono vent'anni io ho fatto soltanto una cosa da sacerdote io non ho avuto mai ecclesiali per ovvie motivazioni io ho fatto soltanto il parroco quindi ossia sinceramente quello che desideravo fare sono diventato prete non per stare dietro ad una scrivania per carità rispetto a tutti i veri che lo fanno perché io ho sempre chiesto al signore non mi far fare quella fine perché se sono sacerdote io vorrei dedicarmi alla tua gloria e alla salvezza delle anime quindi ste frasi qui ma specialmente nelle parrocchie specialmente da parte dei praticanti non credenti o in continuazione e io ho fatto di male non ammazzo non rubo non faccio male a nessuno anzi se è possibile faccio anche un sacco di opere buone quindi si santono se non ho mai danno anzi facevo la spesa per i poveri e è bisognosi audite audite offrivo gratuitamente le mie prestazioni odontoiatriche cioè se lo trovo un bisognoso lo facendo dal dentista senza farlo pagare mappa quindi perfetto effettivamente nel periodo precedente alla caduta e ruina di mio marito periodo nel quale la sua azienda agricola citava agiatezza economica lavorai per cinque lunghi anni quasi gratuitamente sebbiamo utilizzassi dei migliori e costose apparecchiature svizzere mantenevo operativo il mio studio dentistico per aiutare la gente povera e lo facevo per una mia sensibilità naturale questa era uno dei talenti che Dio mi aveva dato e che poteva esprimersi nonostante la mia malvagità è proprio il colmo trovarmi qui continuare ovviamente mentre in realtà stavo andando dritta dritta al cielo per le mie buone opere volevo far valere il mio diritto a esigere quello che io consideravo il giusto corrispettivo delle mie azioni in quel momento non mi rendevo conto che lo stavo proprio ricevendo quindi capito lei pensava di dover ricevere il giusto delle sue azioni perché sono talmente santa che tu mi devi andare in paradiso e mi devi premiare mentre stava ricevendo lì il corrispettivo delle sue azioni perché dopo qui comincia sapete che la testimonianza di Gloria Polo sembra la requisitore di un pubblico ministero perché adesso piano piano gliela fa nostro signore la confessione generale come un tempo facevano i santi confessori specialmente quelli che se lo potevano permettere domani alla festa del grande padre Pio solo in seguito compresi che mentre compievo la buona opera di curare gratuitamente la bocca della gente altrettanto gratuitamente infettavo le loro anime con la mia lingua mettendole su strade contrarie a quelle di Dio vedete gli sto curando gratuitamente ma gli sto attossicando l'anima però e quindi vediamo un po' come considererà Dio quell'azione tu gli curi un dente e gli attossichi l'anima quindi fai in modo che diventi a te cosa ha detto Gesù che è meglio entrare in paradiso con un occhio solo con una mano sola con un piede solo piuttosto che con due occhi con due piedi e con due mani andare all'inferno giusto possiamo fare una 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 analogica meglio entra in paradiso con un dente cariato che con il dente che è curato gratuitamente andata all'inferno o no per vedere siamo tutti d'accordo io continuo a gridare ma che ci faccio qui fatemi uscire ma nessuno rispondeva alle mie richieste disperate di aiuto e più gridavo più queste cose orribili appiccicatemi si addosso godevano nel tormentato ecco qua la crudeltà dei demoni questi sono esseri particolari sono esseri particolari chi non li ha mai visti o non ci è mai stato a contatto lo sappia godono nel far soffrire è il sadismo allo stato puro ma i diavoli sono così capite che significa cadere nelle mani di uno che prova gusto nel tormentarti e non smetterà mai vabbè continua giunsi anche a gridare sono cattolica sono cattolica sono cattolica vi prego fatemi uscire di qui sono cattolica voi sono cattolica appena mi smisi di gridare sono cattolica vi di una scalinata che partiva dalla sommità della voragine quasi sui piedi vi era mio papà poco illuminato e quattro scalini più in alto mia mamma in piena luce avevano entrambi il loro sguardo rivolto verso l'alto e non verso di me ero convinta che se mi avessero vista mi avrebbero fatto uscire da quel buco scuro privo di amore e di speranza lì chiamai implorando rifiduciosamente di portarmi via nel frattempo il mio corpo intubato e agonizzante giaceva in coma profondo su di un letto attenzione del reparto di terapia intensiva della clinica assistire di Bogotà ormai da un paio di giorni quindi coma profondo terapia intensiva qui nessuno poteva farmi visita tranne mia sorella minore Cristina la dottoressa fu lei a raccontarmi che proprio mentre si trovava al mio fianco assorta nei suoi pensieri nel tetto silenzio della stanza ritmicamente alternato dal rumore del respiratore a cui era attaccata fu terrorizzata da rudire un grido che emisi nonostante fosse intubata papà e mamma sono qui vengono qui per me mentre stava in coma balzò all'indietro come se avesse preso una scossa sbiancò urlando distinto senza darsi il tempo di razionalizzare muovendo le braccia come a scansare le visibili presenze mamma papà andate via figli non portatela via non portatela via gli altri medici presenti credendo che mia sorella fosse in stato confusionale per l'enorme stress a cui era stata sottoposta si allarmarono e la portarono via di forza ma in realtà le sentì veramente il mio grido pur fraintendendone il significato quel grido da lei udito era proprio quello che io stava mettendo nella voragine oscura del basso purgatorio entrambi i miei genitori dopo la mia accorata richiesta di aiuto abbassarono il loro sguardo verso di me e mi guardarono il loro sguardo il loro sguardo era carico dello straziante dolore che provavano nel vedermi lì mio padre si portò la mano alla testa e scoppiò in pianto per me che ero stata la sua figlia preferita lo vedi gemere come mai ve l'avevo visto fare e poi senza sollevare lo sguardo in preghiera lanciò un grido che mi scossa nel profondo no dio mio no per favore mia figlia no la mia mamma invece mi guardò sì con dolore ma esso non era tale da cancellare la pace la bellezza e la dolcezza del suo volto non versò nemmeno una lacrima ok facciamo i commenti dopo avermi guardato alzò il suo sguardo pregò qualche istante in silenzio e tornò poi nuovamente a guardarmi sempre in silenzio comprendendo che non mi avrebbero portato via di lì continui a gridare la frase di poco prima per chiunque l'avesse potuto sentire sono cattolica sono cattolica sono cattolica per favore fatemi uscire di qui allora una cosa specifica qui Gloria che si trova nel basso purgatorio io credo di aver fatto di averlo detto in qualche catechesi che ho fatto il basso purgatorio cioè il basso del basso nella sua parte più bassa ha queste esperienze terribili perché nella parte più bassa lo hanno visto alcuni santi e mistici i dolori sono terribili ed è veramente molto simile all'inferno comprese le presenze dei demoni che fanno da sanguisughe questo è il luogo per i grandi peccatori e quello che aveva fatto Gloria che adesso tra poco lo scopriranno perché adesso arriva Gesù è il prossimo paragrafo dell'incontro con Gesù e poi ci sarà l'interrogazione sui dieci comandamenti le mie antiche le mie antiche super catechesi tra poco ecco dopo quello che stiamo curando manderemo in stampa appunto il libro sui dieci comandamenti quello che che fu la base delle catechesi che dieci quindici anni fa ormai feci le storiche catechesi sui dieci comandamenti che che tanto sconvolsero diverse coscienze allora l'incontro con Gesù attenzione sta nel basso purgatorio e poi perché la madre non versa nemmeno una lacrima secondo voi perché la madre è quasi beata e ricordate che un beato se il figlio sta all'inferno per quanto in questa vita possa sembrarci strano non soffre abituiamoci quando pensiamo alla vita del mondo che verrà a resettare gli schemi mentali io lo posso spiegare perché non soffre però non so se il reset è sufficiente per poterlo comprendere non soffre per un motivo molto semplice un'anima beata è completamente infusa con la volontà di Dio e per questo conosce la perfezione assoluta dei divini giudizi un dannato è per il fatto stesso di essere dannato un essere totalmente spreggevole e degno solo di odio perché il dannato si è dannato solo per colpa sua per dannarsi ha dovuto sputare sopra ad un autotreno di grazie che ha ricevuto per tutta la vita fino alla morte ha disprezzato il sangue di Cristo gli ha dato dolori a lui alla Madonna per cui un'anima beata dice sta bene dove sta noi qui dobbiamo guardarci bene da certe passioni che non possiamo come dire lasciare libere in questa vita ma dobbiamo trattare l'odio che è una passione come vedremo nel ciclo di catechesi riguardante chi è l'uomo l'odio come l'amore è una passione ma l'odio noi non possiamo lasciarlo cioè le passioni sono create da Dio l'odio qui verso chi dobbiamo esercitarlo verso il peccato punto non verso i peccatori l'odio qui è bandito per un motivo molto semplice perché noi non sappiamo primo chi sta all'inferno secondo non sappiamo se una persona per quanto spreggevole sia non si convertirà non andrà in paradiso quindi non possiamo sapere queste cose quindi il signore ha detto ama anche il tuo nemico non si odia nessuno neanche chi ti ha fatto del male ma nell'altro mondo non funziona così perché beati li odiano i dannati e come ma questo non è una cosa che dici mamma mia orrore odiano no noi non lo possiamo capire perfettamente in questa vita però chi lo spiega lo spiega in questo modo io lo riesco a capire lo riesco a concepire quanto manca? ok abbiamo ancora una ventina di minuti scarsi l'incontro con Gesù stavo ancora gridando di essere cattolica adesso io sono cattolica che sentì una voce con la V maiuscola talmente dolce ma talmente dolce che colmo di pace amore tutta la voragia di vita in cui mi trovavo le creature orribili appiccicate mi si addosso appena udirono la prima vibrazione di questa voce non potendo sopportare la dolcezza si prostrarono atterriti e chiesero il permesso di andarsene si aprì allora una bocca e vi ci si infilarono scomparendo la mia vista e lasciandomi libera dai loro dormiti attenzione vedete i diavoli che stupidi arriva Gesù non ne sopportano la presenza ma si devono prostrare capito amici cari i diavoli si prostrano davanti a Gesù non come gli stoccafissi i baccalà che osano stare in piedi alla divina presenza in chiesa che passano davanti al tabernacolo come se stessero passando dietro al chiosco della granita anzi al chiosco della granita magari ogni tanto uno si ferma proprio io ho visto delle scene allucinanti e i turisti qui fanno certe scuole che nei periodi di massimo afflusso io lo tolgo il Santissimo Sacramento dalla chiesa per evitare profanazioni su profanazioni in continuazione questi si prostrano nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo sulla terra e sotto terra davanti a Gesù si deve stare in ginocchio domani alla festa di padre Pio lui aveva i radar quando celebrava la messa non lo so come faceva perché a quei tempi si celebrava la messa verso Steum quindi il sacerdote non guardava in faccia la gente guardava nostro signore che è il che è molto meglio ma aveva i radar non si sa come perché se qualcuno si azzardava ad alzarsi in piedi questo lo raccontano i testimoni mi hanno raccontato uno a me personalmente che l'ha sentita con le lecche sue si prendeva la licenza poetica di interrompere il silenzio sapete la messa antica c'è un silenzio sacrale e si sentiva la voce di padre Pio e diceva in ginocchio se il radar captava qualcuno che stava in piedi i diavoli si inginocchiano per forza non per amore noi lo facciamo per amore lieti di inginocchiare guai a chi non si inginocchia davanti all'altissima e davanti all'eucaristia in particolare e chiedono il permesso chiaro? nel senso loro sono disobbedienti sono ribellati a Dio in che senso? in che senso? nel senso che la loro libera volontà non vuole servirlo ma attenzione che se il nostro signore ogni tanto lo fa li costringe cioè loro non hanno scampo non possono fare quello che vogliono anche se lo vorrebbero perché con i dannati ogni tanto il nostro signore qualche lezioncina come dire a posteriore di umiltà gliela dà cioè va lì e li costringe a stare in sua presenza a fargli capire se io vi do il permesso di andare andate se no voi state qui a soffrire davanti a me che non mi potete sopportare am I clear? questo è è consolante vedere queste cose perché ci fanno capire chi è il nostro signore Gesù Cristo Gesù Cristo è il Signore a una di queste creature orribili fu accordata però una grazia speciale per resistere a questa voce e poter così reclamare secondo giustizia la mia anima essendo io a sua proprietà attenzione a quello che dice per essere morta in peccato mortale questo passaggio è fondato è sono sua proprietà capito? sapete come si va all'inferno? facilissimo io non ci mando nessuno all'inferno basta morire in stato di proprietà del demonio ma per stare in stato di proprietà del demonio cosa si è sempre segnato la Chiesa chi ci va all'inferno? chi ha commesso anche un solo peccato mortale di cui non si è pentito la possessione da temere è questa il possesso dell'anima l'avere l'anima in proprietà del diavolo basta non andare a messa una volta la domenica per questo accada non è uno scherzo non è un'esagerazione quindi una di questi qua dice wey quest'anima è mia questa si è consegnata a me è inutile che vieni tu questa ce la portiamo all'inferno dice il tipo sentiamo questo demonio sbandereava il suo possesso accusandomi di peccato e urlando in modo orribile è mia è mia durante tutta la mia vita terrena si era prodigato pensate un po' in quanto mio demonio custode per la perdizione della mia anima capito che c'è anche il demonio custode non c'abbiamo purtroppo l'angelo custode c'è qualche diavolo che si prende cura di noi ahimè ad personam e alla strego di una stratega aveva manipolato le mie debolezze portandomi ad acconsentire a tutti quei peccati che con orrore avevo visto vivi dentro e fuori di me le mie parole purtroppo non rendono l'orrore di quell'urlo demoniaco che ripeteva è mia è mia ma di tutto cuore vi auguro di non avere la disgrazia di doverlo udire a questa pretesa demoniaca di possesso della mia anima io ponevo la mia accorata richiesta di essere portata via da lì perché ero cattolica se il diavolo sta dicendo guarda che tu sei mia no 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 che tua non ho ammazzato non ho rubato non ho fatto male a nessuno e ho aiutato tanti bambini poveri a curare i gradi sidenti quindi io devo andare via da qui Gesù mi interrogo su dieci comandamenti continuavo a gridare di essere cattolica e di voler essere portata via dalla voragine spaventosa del demonio che reclamava la mia anima speravo che quella voce meravigliosamente dolce che infondiva in tutto il mio essere una felicità incontenibile mi esaurisse immediatamente la voce si rivolse a me domandandomi molto bene se sei veramente cattolica saprai certamente dirmi i comandamenti della legge di Dio li sappiamo ovviamente chiunque sta ascoltando se uno dovesse chiedere dimmi dieci comandamenti li spara subito in tre secondi e in ordine voglio ben sperare se no mi raccomando comandamenti comandamenti non avevo la ben che minima idea io che mi programmavo cattolica pur ignorando i comandamenti ero proprio come uno studente universitario della facoltà di matematica che si presenta all'esame ignorando che 4 risultati della somma di 2 più 2 cavolo pensai adesso come faccio che mi posso inventare pensai allora che avrei potuto fare il ridicolo tentativo di distrarre l'attenzione della voce dalla mia ignoranza dei dieci comandamenti focalizzando esclusivamente la mia risposta su quello che credevo fosse uno dei dieci comandamenti il comandamento dell'amore riminicenza della tiriterra che mia mamma mi faceva sovente vuoi rimanere nelle grazie di Dio mi diceva vuoi poter di notti placide prive di incubi angusti e turbamenti chiedi allora a Dio la grazia di vivere dieci comandamenti ora notte si dorme tranquilli e continuava dicendomi figlia mia l'intera ricchezza della terra non ti è sufficiente per acquistare la felicità la sua santa mamma sentite è di tutt'altra natura lo strumento transazionale di cui hai bisogno per acquistarla questo strumento è il tuo amore verso Dio e verso il tuo prossimo io figlia mia li amo per questo sono felice sono consapevole del valore relativo della ricchezza economica che non anelo chi incontra Dio veramente non conserva inoltre gelosamente le proprie ricchezze fisiche e spirituali ma le dona fino ad essere capace di donare la sua stessa vita quando questo sacrificio estremo giovi alla salute dei propri fratelli ecco questa era la solita solfa di mia madre solfa che avrebbe fatto proprio al caso mio togliendomi di impaccio pensavo che avrei potuto utilizzarla con la voce come avevo fatto sempre con i miei interlocutori l'avrei ubriacata con quell'unico argomento fino a fare dimenticare di chiedermi altri nuovi comandamenti il sapere maneggiare molto bene quest'arte della distrazione mi dava dunque l'imbarazzante coraggio di volerlo usare anche con la voce questa vuole come dire vuole 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 divagare con domini e Dio no? svicolare con domini e Dio non mi passò non ammette neppure per un attimo come quella voce potesse reggere i miei pensieri affabulatori il primo amare Dio sopra tutte le cose e il prossimo come se stessi e questa voce così infinitamente bella senza darmi il tempo di continuare mi spiazzò chiedendomi molto bene e tu l'hai fatto io? sì sì risposi sfacciatamente io sì io sì ma quando la voce mi disse con fermezza unita infinito amore e dolcezza no iniziò a vacillare la speranza di farla franca e passare illesa l'esame la voce aveva proprio ragione avevo molto lavorato e con successo alla mia immagine sociale agli occhi della gente apparivo buona caritatevole premurosa quanto è amorevole dicevano quanto è santa iniziavo a rendermi conto che nel puntare alle apparenze e non all'essere ero caduta vittima delle mie stesse menzogne rendendomi così sconosciuta persino a me stessa la voce continua al suo giudizio dicendomi tu non hai amato il tuo signore sopra ogni cosa e moltissimo meno il tuo prossimo come te stessa tu avevi un dio a cui davi un culto idolatrico e per il quale ti prodigavi tanto il tuo dio è il denaro adesso sentite il mio dio è il denaro pensai ma passi che sono stato un ipocrita come tanti ma che il mio dio fosse il denaro no no proprio no questi hanno preso proprio un abbaglio stanno giudicando la persona sbagliata perché state attenti figlioli miei cari chi è attaccato al denaro e lo vede pure un cieco pensa di non esserlo e qui attenzione che facciamo attenzione all'io cieco facciamo attenzione all'io cieco guai a chi è troppo sicuro di se stesso guai a chi dice vabbè tutto sommato che peccati faccio e che fare confessioni tanto tanto per farle bisogna tremare dinanzi a queste cose perché potresti avere una trave davanti agli occhi ascoltiamo gli insight che ci vengono da fuori quando qualcuno ci fa notare una cosa quando ci viene fatta rilevare qualcosa non pensiamo che intorno a noi ci sono una banda di imbecilli quando tu una cosa ti arriva da uno da due da tre e tu dici ma io non mi vedo così ma se ti arriva da due da tre cerca di pensarci perché forse io cieco raccolsi allora tutte le forze che avevo e urlai a mia difesa ma quale denaro se ho lasciato un sacco di debbi non finì di pronunciare la mia domanda impertinente perché la mia parola fu rapita dalla bellezza dello spettacolo che si apriva davanti ai miei occhi l'apertura dell'affascinante e tremendo libro della vita il libro della vita era affascinante perché in esso rividi da spettatrice gli episodi salienti che precedettono il mio concepimento e lo seguirono percepivo in questa registrazione audiovisiva l'amorevole tenerezza materna e paterna di un genitore che per non perdersi il ricordo di un solo istante di vita dei suoi figli custodisce le testimonianze di quegli istanti il libro della vita però era anche tremendo perché in esso la mia vita venne messa completamente a nudo dandomi grande vergogna mi furono manifestati infatti anche tutti i miei pensieri più reconditi le mie intenzioni e i miei fini che muovevano e dirigevano le mie azioni tutti i miei giudizi e tutte le conseguenze delle mie azioni io tante volte l'ho detto lo dico anche a me stesso attenzione ai pensieri attenzione alle intenzioni ai fini perché sto facendo una cosa perché sto facendo una cosa vedi insomma la mia vera vita e non quella che io volevo rappresentare agli altri nella verità in cui ero immersa potei valutare il vero valore della mia vita e il grado della mia aderenza alla legge divina dei dieci comandamenti nella dimensione spirituale in cui mi trovavo tutto era presente il libro della vita non faceva eccezione non vi era quindi un prima e un dopo nelle visioni ma il sequente resoconto di quanto i miei processi cognitivi mi hanno permesso di comprendere e la mia memoria conservare seguirà un ordine cronologico perché tale ordine permettendo di porre l'attenzione sullo sviluppo della mia persona e sugli interventi diretti e indiretti di Dio nella mia vita farà apparire con più chiarezza la carità di Dio quindi attenzione a quello che dice questo è un capitolo preparatorio poi la prossima volta cominciamo a vedere tutto l'elenco in Dio non c'è una sequenza cronologica non aveva un prima e un poi però dovendo io raccontarlo essendo voi come me viatori seguirò un ordine cronologico quindi andrò con ordine dalla prima all'ultima cosa perché si manifesti meglio oltre a quello che ho combinato anche la carità e l'amore di Dio carità non vuol dire ingiustizia sebbene seduta misericordia carità vuol dire che Dio ha tutto compiuto per amore mio come tutto compie per amore degli uomini ed è anche il precetto che Gesù ci ha dato bene amici penso che possiamo fermarci qui per oggi ne abbiamo credo avuto abbastanza appuntamento alla prossima settimana che Dio vi benedica la Santa Vergine sempre e tutti vi protegga grazie a tutti